adesso darei la parola a paolo prinetto che è il presidente del cini grazie paolo grazie francesco e grazie per questo invito sì però sul cini mi piace considerarci i cugini del cnit è un consorzio che oggi ha 47 università pubbliche nelle quali si insegna informatica senza distingue tra quelle informatiche ingegneria di scienze noi qui accennava accennava paola e con l'obiettivo chiaro dichiarato almeno cercando di portare avanti in questi anni credi provare a essere valore aggiunto ovviamente non solo per le stesse membre ma anche per il sistema paese e volevo come provare il servo raggiunto il modo che abbiamo trovato è quella di creare attivare dei laboratori nazionali tematici l'ultimo che abbiamo creato è quello che accennava francesco prima quello su artificial intelligence and intelligent systems e ne abbiamo altri direi abbastanza importanti uno è quello da cyber security un altro è su big data e su smart cities i laboratori proprio per mezzo per riuscire a far lavorare insieme a fare appunto sistema a offrire risposte significative vorrei soffermarmi su alcuni aspetti no che sono emersi stamattina parto dal primo intervento di Nicola Blefari nella sua presentazione ha parlato di mancanza di studenti ecco facciamoci un ragionamento non so se è chiaro a tutti voi noi abbiamo università tedesche le quali vengono a fare recruitment non per i laureati ma per gli matricolati ok quindi abbiamo vari tentativi da parte di università tedesche le quali cercano di immatricolare gli studenti ok non di parlare di gerbelli in fuga e questo secondo me qualche problema ce lo crea nel campo di cui mi sto occupando la cyber security in particolare si registra uno skill gap c'è una mancanza di forza lavoro a livello planetario giusto per dar due dati nel 2016 la stima era che nel 2020 sarebbero mancati un milione e mezzo di persone oggi la stima è modificata in due milioni quindi nel 2020 mancheranno due milioni a livello planetario di esperti nel settore cyber cosa facciamo in italia e beh ovviamente non siamo certamente meno degli altri paesi in termini di mancanza abbiamo però un problema che voglio evidenziare ed è la mancanza della dei docenti che anche volendolo e questo mi rivolgono anche al vice ministro e anche volendolo le università che hanno i fondi in qualche modo per decidere di investire in particolari lauree innovative non lo possono fare per una serie di vincoli d'accordo che impedisce loro di fare queste interi ecco credo che se vogliamo veramente fare un salto di qualità e provare a ridurre quel quello skill gap nei vari settori occorra avere un piano mirato per università non sto facendo una difesa corporativa credo che sia veramente interesse del paese come negli anni 60 abbiamo avuto il coraggio in italia di fare i piani speciali per la chimica credo che oggi occorra avere il coraggio di fare piani speciali per decidere politico io posso dire certamente la parte sicurezza è una la parte infrastrutture di 5g è un'altra ecco però se noi andiamo in quella direzione se non ci rendiamo conto che per arrivare il skill gap occorre anche avere i docenti per farlo la sapienza sta cercando disperatamente un ordinario in cyber security e non lo sta trovando a livello italiano d'accordo perché sono sono pochi sono allocati e quei pochi però vi ragione tendono a non spostarsi un secondo aspetto volevo condividere con voi un esempio che dal mio punto di vista un esempio virtuoso di gioco di squadra di cui parlava il vice ministro abbiamo fatto una diciamo un'iniziativa veramente bottom up bottom up vuol dire senza nessun spinto dall'alto senza nessun diciamo bando di concorso per se non ti metti insieme non ti finanziamo noel riguarda ha riguardato cini il client e il cnr insieme abbiamo dato vita a quella che abbiamo chiamato il comitato nazionale per ricerca in cyber security e ripeto condividendo esperienze e soprattutto presentandosi in questo modo in europa ci siamo presentati ovviamente d'accordo con il dis no e con il mise abbiamo risposto unitamente a un bando sul recente per il finanziamento di infrastrutture diretti di interconnessione tra sistemi di sicurezza abbiamo vinto presentandoci come sistema paese questo è sistema paese come battuta quella bianco chiamati colleghi francesi non ci credevano che gli italiani si presentassero così hanno telefonato al dis per sapere se era vero no oppure se il nostro era milan dato credito ha avuto l'ok dall'alto siamo andati avanti ecco mi sembra che sia un esempio bottom up ma proprio nell'ottica di superare quegli schemi no quei piccoli particolarismi non ha senso paola diceva informarsi senza ingegneria ma anche l'esperienza ha dimostrato che volendolo bottom up si può provare no a fare qualcosa mi riferisco la battuta che faceva prima francesco guardando parlando di me e cioè di michela noi ci abbiamo messo del nostro è come accademici in tanti casi lui è la prima preside poi rettore quindi soldi cosa sta passata di cosa sto parlando ma ricordo che quando abbiamo discusso sui della commissione dipartimenti ci fu una posizione molto lungimirante da punto di scientifico che dice no facciamone due per così almeno abbiamo due posti in stato accademico e quindi questa fu la ragione veramente lungimirante che portò a essere in dipartimenti diversi dopodiché adesso stiamo faticosamente provando a ma chiaramente non è così banale solo per dire che un po' di colpa probabilmente ci abbiamo anche noi chiudo con orientamento a cui avete accennato anche qui mi piace citare lo dichiaro questa pubblicità quindi il 9.001 ma un'iniziativa che coinvolge che sta coinvolgendo scuole superiori e università ok mirata a cercare talenti nel campo della cyber da un lato ma soprattutto a fare orientamento cioè provare a dire ai ragazzi anche dei superiori guardate che se non ci avete pensato questo campo può essere un'opportunità di lavoro per voi d'accordo e quindi di spingere da un lato portare a cercare talenti ma dall'altro anche a fare orientamento credo che sia un esempio questo progetto cyberchallenge.it che veramente va nella direzione di stiamo anche ragionando su come superare il problema del genere non è così banale sono pochissime ragazze che partecipano a questa iniziativa ecco stiamo cercando di capire come venire fuori però quella secondo me è la direzione e soprattutto fare superare questa barriera questa dicotomia che solamente c'è scuola superiore università facciamo un programma che coinvolge gli ultimi due anni superiori e i primi tre anni dell'università. Chiudo qui c'è anche perché è un minuto quindi volevo parlare di tecnologia nazionale ma al prossimo giro alla prossima occasione quindi grazie